La prima maglia che ho regalato al Museo del Rigby, questa mi tiene molto perché è la maglia dell'Edimburgo Rigby con cui ho lavorato un anno e mezzo fa in scossa e quando ho finito la stagione con Edimburgo prima di andare a Grenoble, i giocatori di Edimburgo, dentro c'è dieci giocatori mi hanno dato questa maglia con la loro firma per un ricordo e questo mi fa molto piacere doppierla al Museo del Rigby. Tanto per fare un po' di storia, Edimburgo, che chiaramente è una squadra scoccese, quest'anno ha fatto la fine del campionato, quindi è anche una squadra molto importante e Filippo ha allenato questa squadra. L'altra è la maglia dove all'Eno di Grenoble Rigby, è la maglia della seconda linea di Grenoble, Ben Hand, e la maglia con quale avevano giocato in Coppa d'Europa, MNIN Cup, contro Cardiff. E' un regalo. Grazie. Grazie. Grazie.